Eccolo qua, qua siamo in piazza dei Liguri Apuani, nel paese di Genicciola, siamo a confine tra Liguria e Toscana, provincia di Mars, vi faccio vedere la piazza, questo è il paese. Questo è il mio scuterino. C'è anche una fontanina e qua si va alla Necropoli, che però adesso è ridotta proprio male perché non si riesce neanche a passare a momenti. E poi da quanto mi hanno detto hanno nascosto anche le cose che hanno trovato, in più le hanno portate via quelle che erano in superficie, il resto l'hanno lasciato lì all'abbandono. Quindi non sarà una cosa facile trovare quello che è rimasto o quello che hanno nascosto.